buonasera a tutti e benvenuti ho già fatto una puntata parlando del melegatti la feci credo nel periodo invernale e quindi l'abbiamo un po considerata una favola di natale una favola finita bene quindi tutti contenti spirito natalizio e in quella occasione stavamo parlando della storica azienda credo che nel 1894 ma l'azienda è precedente a verona brevettò il cosiddetto dolce di natale alternativo al panettone quindi il pandoro altrettanto famoso come il panettone questo è quello che si dice poi ribadisco tutti hanno inventato il panettone tutti hanno inventato il pandoro ma lasciamo perdere le questioni il battibecco melegatti famosa scatola interessante con i leoni il pandoro tutti contenti al tempo in grave difficoltà salvata da un fondo se non sbaglio maltese fondo maltese che al tempo consentì alla melegatti di riportare nei negozi circa un milione mezzo di pandori da qui la il forza la solidarietà la colletta quasi tra i consumatori nell'acquistare il pandoro melegatti per sostenere l'azienda per sostenere i lavoratori per sostenere le famiglie per sostenere l'economia per salvare una storica azienda italiana dal rischio del fallimento fondo maltese nome strano denaro fresco inserito nelle casse per cercare di riportare il tutto ora lo stesso fondo si sfilò successivamente arrivarono altre aziende importanti anche italiane nel tentativo di salvare l'azienda per una situazione debitoria piuttosto grave forse anche più grave di quello che al tempo poteva essere previsto e poi anche un fondo americano se non erro che presentò una sorta di piano di salvataggio per la melegatti per evitare alla melegatti il fallimento spiace dire invece che recentemente se non erro una sentenza del tribunale di verona credo anzi non credo la sentenza è quella ed è ufficiale ha dichiarato il fallimento della società quindi dopo questa tormentata vicenda la storica azienda dolciaria e tutto l'indotto esterno ma soprattutto il personale interno dovranno attrezzarsi con tutte quelle strutture che la legge propone offre nelle situazioni di fallimento per tutelare in primis ovviamente i lavoratori dell'azienda i creditori e poi i vari creditori che possono essere le banche o altri enti che vantano un credito importante purtroppo questa è la vicenda e i lavoratori stagionali o comunque dell'azienda credo siano circa 350 a questo aggiungiamo le famiglie e tutto il resto grande solidarietà ancora a questa azienda e mi piace sempre essere solidale ecco non ho amato al tempo le polemiche sul guardate che non è vero guardate che falso guardate che una campagna natalizia fake news perché tutto quello che viene raccontato vale non vale non mi è interessato al tempo non mi interessa oggi mi dispiace da italiano posso dire che mi dispiace che un'azienda storica italiana 1800 possa fallire oggi in circostanze che magari in altro modo con altra volontà forse questo fallimento si sarebbe potuto potuto evitare credo che il magistrato abbia rigettato l'idea di una proroga per un eventuale concordato si tratta di capire adesso dove possa andare a finire il marchio si tratta di capire anche i lavoratori che se non ero hanno hanno acquistato una pagina su un giornale storico locale di verona per separare il giudizio magari di responsabilità degli amministratori da altro e qui entriamo anche nell'operato di che possa avere fatto bene o fatto male nella conduzione di questa azienda auspico e mi auguro che la regione veneto e credo che qualcosa già si sia mosso possa ragionare con il commissario per valutare quella che potrebbe essere magari la possibilità di mantenere la produttività il mercato di riferimento salvaguardare l'occupazione mantenere magari in vita il marchio storico e un'azienda simbolo del veneto ribadisco bella la favola di natale tutti ci abbiamo creduto e abbiamo voluto crederci e ci vogliamo credere anche oggi questo per salvare sicuramente una tipicità nella produzione dolciaria nostra italiana grazie